Un grande spettacolo a ventitre ore, prepara i vostro vile buon servitore. Un grande spettacolo a ventitre ore, in il templo di Marte vive Cupino. Vive Cupino! Quien sarà la bribona che l'ha escondito? Che l'ha escondito? Quien sarà la bribona? Quien sarà la bribona che l'ha escondito? E ignorateci, signore e signore, a ventitre ore, a ventitre ore. Quien sarà la bribona che l'ha escondito?